3 spettatori ben ritrovati con l'informazione di tele di oggi. A Cotronei dove i noti si sono introdotti nello stabilimento Tremare Piccolo in località Ponte Coniglio, proprio completato da pochissimo tempo e hanno fatto razzia di tutto quello che si poteva asportare, compresi anche dei portoncini in ferro. Restiamo a Cotronei dove c'è spazzatura ovunque, persino nei siti sequestrati dai carabinieri. 3 spettatori ben arrivato nel paese dei balocchi Per annegare basta aprire solo gli occhi Nelle scale sono tra gli avari tipi d'occhi Restare in galla è dura anche se d'occhi Ereditaria di un futuro senza sbocchi C'è nelle mani dell'Italia dei tarocchi A governare burantini troppo vecchi Che c'è di strano se alla fine prendi sbrocchi. Ci vorrebbe un miracolo per poterci salvare Ci vorrebbe un miracolo guarda che stiamo ammazzando il mare Un miracolo per poterci salvare Ci vorrebbe un miracolo per curare il nostro male Ci vorrebbe un miracolo per poterci salvare Ci vorrebbe un miracolo per curare il nostro male Un miracolo per poterci salvare Ci vorrebbe un miracolo guarda che stiamo ammazzando il mare Per me è tutto, io vi ringrazio per la cortese attenzione, vi rinnovo l'appuntamento, alle prossime edizioni, arrivederci! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!